Amici di calciomercato.com, Angelo Taglieri, Alessandro Di Gioia, di nuovo con voi con la schedina di CM, un Alessandro che settimana scorsa ha sfiorato il colpaccio. Sì, ha sfiorato il colpaccio nel senso che ho sbagliato soltanto Milan e Foggia, a Milan aveva messo la vittoria a Cagliari invece è finita col pareggio, il Foggia aveva messo invece il pareggio ma ha perso in casa con il Palermo. Questo cosa vuol dire? Che non giocherò più Milan e Foggia. Infatti il colore rosso-nero evidentemente non ti porta benissimo, io ne ho sbagliate molti di più, ne avevo sbagliati due solamente invece la settimana prima che con le nazionali forse vado un po' meglio. Consueta sfida tra me e Ale, consueto sabato-domenica, no partì tu perché il sabato è tuo. Ah è vero, parto io, sì è vero, sì sì scusa è vero, ti perdono per questa volta. Sono un po' agitato, scusate anche voi, parto io con il sabato e non ha variato molto questa settimana nel senso che ho giocato solo partite italiane, serie A e serie B per me. Parto proprio dalla serie B direi che è un po' campionato che in realtà tra l'altro è partito. Sì è partito ma sperando chiaramente che ci sia poi dopo la giornata di serie B nel weekend perché c'è un rischio rinvio molto forte nel caso comunque voi ve le giocherete lo stesso la prossima volta che ci saranno i recuperi. Parto da Cosenza-Livorno, una sfida tra due squadre che stanno facendo fatica no Angelo che segui molto la serie B, arrivano dalla serie C, entrambe hanno un po' di problemi in questo inizio stagione. In questo caso tendo a privilegiare come questa volta chi gioca in casa anche se lo stadio di Cosenza non è sicuramente un fiore all'occhiello dei nostri stadi. Sperando che la partita si giochi mi gioco l'uno, la vittoria appunto dei calabresi dati a 2-11 contro un Livorno che deve amalgamarsi un pochino, deve anche trovare un po' la giusta quadratura e potrebbe patire ecco la verve del Cosenza che poi è stata quella che l'ha portato l'anno scorso a essere promosso in serie B. Un po' a sorpresa, invece il Livorno col cotone non ha giocato male però ha pagato la maggior qualità perché un giocatore come Simi effettivamente in serie B fa la differenza. Pescara-Foggia ecco, ho detto che non avrei più giocato il Foggia invece ci ricasco subito e perché? Perché la squadra del Grasadone è chiamata una risposta importante, è non sicuramente una delle favorite però ha fatto una squadra importante che al momento non ha offerto le giuste risposte anche per le squalifiche chiaramente che ci sono state in seguito ai pagamenti nero della passata stagione da parte del club pugliese. Un Foggia che va a Pescara su un campo ostico, sempre ostico, ecco il Pescara forse ha meno qualità degli altri anni ma è una squadra comunque che è ben messa in campo dall'allenatore, un vecchio lupo di mare come Pillon e sta riscoprendo un cocco che potrebbe tornare a buoni livelli anche se l'ultima partita ha sbagliato il rigore. Sì però è entrato Monachello che è un altro giocatore in cerca di rilancio che ha fatto bene e si parlava benissimo di lui qualche anno fa. Ecco un Foggia che è dato a 3,35 perdona una quota molto alta e quindi anche dovendo appunto rispondere un po' ai tifosi e la squadra dovendo dare una risposta sul campo mi gioco un 2 che è difficile ma non impossibile secondo me. Crotone e Las Verona invece è proprio una sfida di quelle che dicevamo prima, due riduce della Serie A, due squadre che sono attrezzatissime per la promozione e sono due tra le favorite probabilmente insieme al Palermo e a qualche altra. Il Verona ha riscoperto un pazzini veramente carico che ha realizzato una tripletta dopo che l'ultima l'aveva fatta al Milan quindi sono passati veramente tanti tanti anni. Il Crotone invece come diceva giustamente Angelo punta su un Simi che è un po' all'alfiere di una squadra che ha tenuto molti riduci della Serie A quindi nonostante il Crotone giochi in casa mi gioco una X un pareggio che è dato a 3,25 anche in questo caso una quota direi decisamente alta tra due squadre che secondo me ci faranno vedere un bello spettacolo. Chiudo con Palermo-Perugia, gioco la vittoria della squadra Rosanero che mi ha ben impressionato proprio nella partita contro il Foggia, Tedino è riuscito a mettere su una squadra con tanti giovani, molti sono stranieri però c'è anche qualche giocatore esperto come Traikoski che ha fatto la differenza proprio nella partita dello Zaccheria. E' un Palermo che secondo me proprio per il fatto che ha con un allenatore con il quale già l'anno scorso aveva lavorato può essere magari avvantaggiato in questo inizio di campionato. Una vittoria di Rosanero data 1,82 appunto. Chiudo con i due dei tre anticipi di Serie A, il primo è Parma-Cagliari, due squadre che hanno ben figurato rispettivamente contro Inter e Milan nell'ultima giornata di campionato. Due squadre in forma, due squadre che provano anche a farci vedere qualcosa, soprattutto il Cagliari di Maran, mentre il Parma è più una squadra che gioca in contropiede. Penso che ne possa uscire una X, una bella X probabilmente magari non con tantissimi gol però un pareggio dato a 3,15 nel quale vedremo poi affrontarsi anche due filosofie un po' diverse di calcio. Chiudo con Sampdoria e Inter, non me ne vorranno i nostri amici interisti che dicono che magari portiamo un po' di sfortuna però credo che sia arrivato il momento per l'Inter di offrire una risposta importante in campionato. Dopo quattro punti in quattro partite è uno scenario veramente orribile per chi pensava a un Inter in seguitrice della Juventus. Servirà a vincere a Genova, servirà a vincere contro la Sampo, non è mai un campo facile, il Napoli ha perso 3-0 però l'Inter sappiamo c'è il vecchio adagio, può perdere con tutti ma può vincere con tutti. Un Inter data 1,92, anche la quota alta mi ha attirato. Con 5 euro, 1.264,34. Siamo abbastanza 10 euro di differenza oggi, io invece parto dall'unica partita estera che ho deciso di giocare e c'è un po' di taglia perché si tratta del Chelsea di Maurizio Sarri, un Chelsea che sta volando a braccetto con Liverpool, sopra Manchester City, anche se Sarri si è un po' nascosto nelle conferenze stampe di questi giorni. Di contro c'è un West Ham che ha fatto fatica all'inizio, si sta grappando un po' da Arnauto, vice che è stato da Alan Shearer, premiato come giocatore del weekend, proprio dall'ex attaccante di Newcastle. Sono due squadre che sono un po' allegri in fase difensiva e amano attaccare, quindi mi gioco un over 3,5, ho dato a 2,28. Quindi faccio il tifo per Sarri e lo dico anche Ale fa il tifo per Sarri, però mi gioco non il risultato ma un po' di gol, quindi over 3,5 a 2,28. Poi solo Italia, parto dalla Serie B anch'io, nella speranza che comunque possano scendere tutti regolarmente in campo, mi gioco la sfida tra Padova e Cremonese, una Cremonese che con Castrovilli sta facendo abbastanza bene in questi inizi di campionato, dall'altra parte c'è un Padova che arriva da una brutta sconfitta contro la Salernitana, però uno di quei club neopromossi che dicevamo prima, quindi probabilmente deve ancora prendere le misure, ha iniziato con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Sono casalingo in questo caso, mi gioco l'1 che è dato a 2,28 per le squadre di Bisoli, in casa sono sempre fastidiose da affrontare. Poi solo Serie A e parto con Fiorentina a spalle e qua mi gioco un risultato doppio, nel senso X primo tempo e vittoria finale della Fiorentina, una Fiorentina che è vero che arriva da una sconfitta, però un calcio tutto sommato divertente, una squadra interessante da vedere. Dall'altra parte c'è una spalla che sta volando, ha trovato i gol di Petagna. Incredibile, che avevo contro il fantacalcio diciamolo perché va detta questa cosa. Ha perso poi una doppietta di Petagna, una spalla che comunque prima o poi credo che debba perdere, possa perdere qui contro la Fiorentina al Franchi, quindi mi gioco X primo tempo, 1 finale che è dato a 3,80. Poi Lazio Gena, una Lazio che non sta giocando benissimo, lontana, parente diciamo di quella della scorsa stagione, però l'anno scorso quando non giocava bene perdeva, adesso non ha giocato bene l'ultima partita, è comunque riuscito a portarla a casa, probabilmente devono ancora entrare in forma i migliori uomini della squadra di Simoninzaghi, Genoa che ha un Piontech che non si ferma più, uno dei migliori cannonieri d'Europa, e mi gioco però l'1, sono casalingo anche in questo caso, vedo una Lazio comunque più solida, più squadra, con ambizioni più importanti, 1 che è dato a 1,46. Poi le ultime due, Frosinone e Juventus, Frosinone che sta facendo quasi peggio del Benevento. Ti sei giocato l'1? No, non ho giocato l'1, è vero che siamo pazzi, ma non fino a questo punto. Mi sono giocato comunque un over 3,5 con la Juventus che magari sulla scena di quanto fatto Dara Sampdoria nell'ultimo turno può far male a questo Frosinone, un Frosinone che è veramente in difficoltà, un over 3,5, ho giocato a 2,17, ho cercato di dare un senso a questa giocata. Poi alla fine la sorpresa della mia schedina è che non è questa, ma è Torino-Napoli, mi gioco l'1. La vittoria di Torino, la vittoria di Walter Mazzarri contro il suo passato, Napoli che comunque per forza di cose sarà stanco dalla Champions League, dall'impegno infrasettimanale in una delicata trasferta, a ben grado. Un 1 che è dato a 4,07, quindi un Torino che deve dare anche un segnale importante contro una squadra importante. Iago Falchier non ci sarà, però probabilmente spazio a Simone Zazza che è entrato nell'ultimo turno di campionato, al fianco di Andrea Bellotti che è stato accostato più e più volte al Napoli da De Laurentiis, quindi Torino-Napoli 1,407, 5 euro, 1.273 euro. Siamo più o meno simili, ecco la vittoria del Torino contro il Napoli è un po' la partita di Mazzarri, una classica partita battagliera, quindi ci può assolutamente stare. Il cuore Granata può dare fastidio a questo Napoli che comunque è vero che ha vinto nell'ultima ma sta cercando ancora un po' la sua identità. Detto questo aspettiamo come sempre i vostri commenti sia su Twitter che su calciomercato.com e nella sezione commenti le vostre proposte, i vostri insulti perché comunque ci sono anche quelli e noi comunque siamo sempre pronti e disponibili a rispondere a tutto e a tutti. Ciao e alla settimana prossima!